ciao sono erica insegno pilates e lo faccio per aiutare le donne che hanno poco tempo a disposizione per allenarsi a migliorare la qualità della salute del movimento e la consapevolezza del loro corpo diventare mamma ha segnato un passaggio nella mia vita mi ha fatto capire quanto sia importante stare bene con me stessa per essere una persona migliore nel mondo stare bene nel mio fisico stare bene nelle mie scelte stare bene nelle mie abitudini come quella del pilates il pilates è la perfetta coordinazione tra corpo mente e spirito ed è per quello che è diventata una mia abitudine anche se come lavoratrice e come mamma ho poco tempo a disposizione ho fatto di questi 20 minuti un mio momento sacro e voglio aiutarti per farli diventare anche il tuo